Il Consiglio di Amministrazione di Air Italy, riunito oggi a Milano Malpensa, sotto la presidenza del manager Rossen Dimitrov, ha dato il suo consenso alla condivisione con Alitalia dei voli da Olbia per Roma-Fiumicino e Milano-Linate in regime di continuità territoriale aerea senza compensazioni economiche, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale. L'approvazione spiega in una nota della compagnia aerea, però condizionata alla piena accettazione dei termini da parte del tavolo regionale di Alitalia. Ieri, infatti, Air Italy aveva fatto una controproposta al piano elaborato dal presidente della regione, Cristian Solinas. Infatti, Air Italy chiede che l'offerta fatta all'Italia preveda non una, ma due tratte giornaliere nel periodo che va dal 1 giugno al 31 agosto, una richiesta molto probabilmente legata alla ridotta disponibilità di Airi di cui soffre al momento la compagnia aerea gallurese. Il Consiglio di Amministrazione ritiene che questa soluzione sia ragionevole ed equa per tutte le parti, in grado di proteggere il futuro dello staff di Air Italy a Olbia. Una decisione che va nella direzione auspicata sia dalla regione che dai sindacati e che dovrebbe scongiurare, almeno per il momento, il rischio che i 600 dipendenti che attualmente Air Italy ha in Gallura siano costretti a lasciare l'isola per un nuovo hub nazionale che la compagnia ha creato a Milano Malpensa. Un pericolo concreto nel caso in cui Air Italy avesse deciso di non volare le rotte della continuità aerea dall'aeroporto Costa Smeralda di Olbia.